Dovevano pagare il pizzo, consentire lauti sconti sulle merci e prodotti acquistati nei loro negozi. Dovevano assumere amici e familiari di persone vicine alla cosca. In sei hanno deciso di dire basta e si sono rivolti alle forze dell'ordine. Imprenditori e commercianti stanchi di subire. Finiti nelle mani della cosca Cerra, Torcasio Gualtieri, costretti a sopportare le estorsioni, le minacce, i danneggiamenti. Stamani i carabinieri hanno disarticolato, presunti registi e presunte pedine del racket che alla mezza ha messo in ginocchio decine di imprenditori. 13 le estorsioni accertate, secondo gli inquirenti, i frutti delle attività illecite della cosca servivano a mantenere le famiglie degli indranghetisti finiti in carcere. E proprio dagli istituti di pena i reclusi riuscivano ad impartire gli ordini ai loro sottoposti. 18 le persone finite in manette su richiesta della direzione distretto all'antimafia di Catanzaro che ha coordinato l'inchiesta. 17 sono in carcere, una è agli arresti domiciliari.